Un importante spettacolo teatrale a Pescara, Courage, curato nell'ambito anche della Due Giorni, del tesseramento dell'Ampi. Di cosa tratta questo spettacolo? Dunque, lo spettacolo mette in scena il tentativo di una giovane compagnia, che è sul punto di emigrare all'estero, di lasciare l'Italia, di compere un ultimo spettacolo, Madre Courage e i suoi figli, di Brecht. Durante le prove di questo spettacolo interverranno storie della realtà contemporanea dei giorni nostri, che parlano appunto di coraggio, resistenza e migrazione. Marcello Sacerdote è uno dei protagonisti di questo spettacolo. Come mai questa scelta? E tu cosa farai in quest'opera? Beh, la scelta è una scelta di vita ed è la compagnia che ho fondato insieme a Francesca, che si chiama Mure Teatro, quindi ci sono per necessità vitale, perché credo fortemente nel progetto sia del gruppo che di questo spettacolo, che penso possa lanciare un messaggio molto importante, che è quello appunto di avere cuore. Diciamo la verità, chi fa cultura in questo territorio ha un po' più difficoltà a essere incluso nei percorsi grandi nazionali rispetto a chi la fa in territori che danno più investimento nella cultura. Cioè nonostante abbiamo questa felicissima notizia che il Mure Teatro, che tantissimi anni opera, fa cultura, spettacoli in questo territorio, è riuscito ad avere un premio prestigioso, cioè finalista al premio Scenario Perustica 2015. Non potremmo quindi chiedergli di fare una prima del loro spettacolo qui da noi, per riportare nella nostra città, quello che di buono e interessante hanno mostrato all'Italia intera.